Si chiude nel weekend l'appuntamento importante per Poggiun Bricchio, l'ottava edizione per assaggiare e gustare il tartufo bianco in varie declinazioni. È l'ottava edizione della manifestazione Tuber Magnatum, in queste due giornate di quattro ci sarà la degustazione del tartufo bianco e cercheremo di lasciare delle sensazioni alla gente, delle belle sensazioni, cercando di renderle felici e farli conoscere anche il Paese. Chi viene avrà occasione di conoscere la nostra convivialità, la nostra cortesia verso la gente. Vi aspettiamo a tutti quanti. Non solo a cena ma anche a pranzo. Esatto, ci saranno degli intrattenimenti con dei gruppi musicali che aglieteranno la giornata e ci sarà la possibilità di girare anche il Paese. Volevo ricordare che stiamo anche collaborando con l'Aquila che farà nei primi mesi di dicembre la sagra del tartufo bianco e nero per far conoscere, come abbiamo fatto noi in questa ottava edizione, far conoscere queste eccellenze, il tartufo bianco e il tartufo nero dell'Abruzzo, farlo conoscere in tutte le parti d'Italia e del mondo.